Qui c'è il Prado Magno, qui c'è l'anno che scende e poi risale e quindi la Falle Alte Divina si trova qui a Città di Castello su questo lato qua. E questo qua è staccato, non c'entra niente e quindi il deficiente è stato cassino a Fibocchi. Torna a tremare la terra nell'Aretino, sono state infatti registrate nella notte tra lunedì e martedì quattro scosse di terremoto con epicentro nella zona di Castiglion Fibocchi. Attorno alla mezzanotte si è verificata la prima scossa con una magnitudo di 1,6, un minuto dopo la seconda scossa di 2 con profondità pari a 10 chilometri. Per la terza volta la terra ha tremato mezz'ora dopo con una magnitudo di 2,7 e una profondità di 6 chilometri. Alle 2,11 è stata registrata la quarta ed ultima scossa con magnitudo 2,0 e profondità di 13 chilometri. Poi abbiamo registrato alcune scosse di minore magnitudo che non sono state presentite. Comunque non si può parlare di sciame, tutte queste scosse sono avvenute intorno a mezzanotte e poi il fenomeno è già finito. E quindi non c'è da dire molto perché non è una zona molto sismica. Le scosse sono state avvertite in particolare dagli abitanti del posto e delle zone limitrofe in provincia di Arezzo, ma fortunatamente non hanno prodotto alcun danno. E' un fenomeno che ogni tanto capita. Ora la prossima domanda sarà sicuramente se è legato alle scosse dell'Apenino centrosetenzionale. E lì dico, se dico di sì non è da provare, se dico di no non è da provare. Se uno scuote l'Italia con nove terremoti veramente forti, più forti di magnitudo 5, e sono scosse che sono state risentite anche nelle nostre aree, chiaramente quando si accumula un po' di tensione su qualche fallietta, questa magari scuote più facilmente dopo. E questo potrebbe essere una spiegazione molto semplice, come uno rimette un tovagliolo sul tavolo, anche le ultime pieghe se ne vanno con quest'onda grande che uno in esca.